Shining di Stephen King Capitolo 18 L'album dei ritagli Jack trovò l'album dei ritagli il primo di novembre, mentre sua moglie e suo figlio si arrampicavano su per la vecchia strada accidentata che saliva da dietro il campo di rock fino a una segheria abbandonata, tre o quattro chilometri più su. Il tempo era ancora bello e tutti e tre essi erano procurato l'insolita abbronzatura autunnale. Jack era sceso in cantina ad abbassare la pressione della caldaia, poi, d'impulso, aveva tolto la torcia elettrica dallo scaffale dove erano riposte le mappe degli impianti idraulici e decise di dare un'occhiata a qualcuna di quelle cartacce. Cercava i punti più adatti per disporre le trappole, anche se aveva in animo di farlo solo di lì a un mese. «Voglio che tornino tutti a casa dalle vacanze», aveva detto a Wendy. Puntando il fascio luminoso della torcia elettrica di fronte a sé, oltrepassò il vano dell'ascensore, su richiesta di Wendy non ne avevano mai fatto uso, e superò il piccolo arco di pietra. Arricciò il naso al puzzo di carta fradicia. Alle sue spalle la pressione ebbe un brusco rialzo e la caldaia emise una sorta di rantolo, facendolo trasalire. Proiettò tutto attorno il fascio di luce, zuffolando sommesso tra i denti. Là sotto c'era come una sorta di catena andina in scala ridotta. Decine e decine di scatole e cassette stipate di carte, per lo più bianche e sformate a causa degli anni e dell'umidità. Altre si erano sfasciate e avevano rovesciato sul pavimento di pietra fasci ingialliti di carta. C'erano enormi pacchi di giornali tenuti assieme con spago. Alcune scatole contenevano registri, alte apparivano stipate di fatture trattenute da fascette di gomma. Jack ne estrasse una e la illuminò con la torcia. Rocky Mountain Mountain Express Inc. A Overlook Hotel, da Seadeis Warehouse, 1210, sedicesima strada, Denver, Colorado. A mezzo, Canadian Pacific, RR. Contenuto, 400 scatole carta igienica Delsey, una grossa per scatola. Firmato DEF, data 24 agosto 1954. Jack sorrise e lasciò ricadere il foglio nella scatola. Puntò il raggio della torcia verso l'alto e illuminò una lampadina che penzolava dal soffitto, avvolta da una coltre di ragnatele. Si alzò in punta di piedi e tentò di avvitare la lampadina, che si accese emanando una luce fioca. Riprese in mano la fattura della carta igienica e se ne servì per togliere le ragnatele della lampadina. Ma la luce non aumentò di molto. Sempre usando la torcia elettrica vagabondò tra le scatole e pacchi di carta, in cerca di eventuali tracce lasciate dai topi. Ce ne erano stati, ma un bel po' di tempo prima, forse anni. Trovò resti di escrementi polverizzati dagli anni e qualche nido, vecchio e abbandonato, fatto di carta ridotta a brandelli. Jack sfilò un giornale da uno dei pacchi e diede un'occhiata al titolo. Johnson promette una transizione ordinata. Dice che l'opera iniziata da Kennedy continuerà negli anni a venire. Il giornale era al Rocky Mountain News del 19 dicembre 1963. Lo lasciò cadere sul mucchio. Si sentiva affascinato da quel senso banale della storia che chiunque può avvertire, scorrendo le notizie che sono state di fresca data dieci o vent'anni prima. Scoprì lacune nei giornali e incartamenti ammucchiati. Niente dal 1937 al 1945, dal 1957 al 1960, dal 1962 al 1963, periodi in cui l'albergo era rimasto chiuso evidentemente. Le spiegazioni fornite da Ullman in merito alle alterne fortune dell'Overlook continuavano a sembrargli poco corrispondenti al vero. Gli pareva che la spettacolosa posizione dell'Overlook avrebbe dovuto garantire di per se stessa il perdurante successo dell'albergo. Era sempre esistito un jet set americano, anche prima che inventassero gli avi oggetti e a Jack sembrava che l'Overlook avrebbe dovuto essere una delle basi di quella gente nelle sue emigrazioni. Pareva del tutto logico. Il Waldorf in maggio, la Bar Harbor House in giugno e luglio, l'Overlook in agosto e ai primi di settembre, prima di trasferirsi alle Bermude, a Lavana, a Rio e chissà dove. Trovò una pila di vecchi registri della clientela che confermarono le sue supposizioni. Nelson Rockefeller nel 1950, Henry Ford e famiglia nel 1927, Gene Harlow nel 1930, Clark Gable e Carol Lombard. Nel 1956 l'intero pieno superiore era stato occupato per una settimana da Daryl F. Zanuck e compagnia. Il denaro doveva fluire per i corridoi e nei registratori di cassa come una sorta di filone d'oro di Comstock del XX secolo. La gestione doveva essere stata un disastro. Jack diede un'occhiata all'orologio e fu sorpreso di constatare che chissà come erano già fuggiti tre quarti d'ora da che era sceso lì sotto. Si era insudiciato a mani e braccia e con tutta probabilità emanava cattivo odore. Decise di risalire e fare una doccia prima che tornassero Wendy e Danny. Lentamente si fece strada tra le montagne di carta, la mente galopante all'inseguimento di innumerevoli, velocissime prospettive. A un tratto gli sembrava che il libro che si era ripromesso di scrivere quasi per gioco potesse davvero vedere la luce. Poteva darsi che fosse proprio lì, sepolto sotto quei mucchi disordinati di cartacce. Indugiò sotto la lampada coperta di ragnatele, cavò senza pensarci il fazzoletto dalla tasca posteriore dei calzoni e se lo strofinò sulle labbra. E fu allora che vide l'album di ritagli. Sulla sua sinistra si ergeva una pila di cinque scatole, simile a una torre di pisa in miniatura che fosse sul punto di crollare. La scatola alla sommità era stipata di altre fatture di registri. E in bilico su tutto il resto c'era un grosso album di ritagli rilegato in pelle bianca. Le pagine tenute insieme da due matassine di cordicella dorata, annodate attorno alla rilegatura e raccolte in vistosi fiocchi. Incuriosito Jack si avvicinò e prese il volume. Sulla copertina rimasta esposta c'era uno spesso strato di polvere. Sollevò l'album all'altezza delle labbra. Ne soffiò via la polvere e l'aprì. Dalle pagine sgusciò un cartoncino che Jack afferrò a mezz'aria prima che andasse a posarsi sul pavimento. Era una lussuosa edizione color crema, sovrastata da un'incisione in rilievo dell'overlook con tutte le finestre illuminate. Il prato e il parco giochi erano pavesati di lampioncini giapponesi accesi. Sembrava quasi di poterci entrare in quell'overlook di trent'anni prima. Horace M. Derwent sarà onorato dalla sua presenza al ballo mascherato col quale verrà festeggiata la grandiosa apertura dell'Overlook Hotel. La cena sarà servita alle ore 20. Smascheramento e ballo a mezzanotte. 29 agosto 1945. RSVP. Cena alle 8. Giù la maschera a mezzanotte. Jack riusciva quasi a vederli, nella sala da pranzo, gli uomini più ricchi d'America e le loro donne. Marsine e lucide camicie inamidate, abiti da sera, l'orchestra che suonava, scintillanti scarpine dal tacco alto, il tintinio dei bicchieri, lo schiocco festoso dei tappi di champagne. La guerra era finita, o quasi. Il futuro si spalancava, chiaro e splendente. L'America era il colosso del mondo. Finalmente lo sapeva e lo accettava. E più tardi a mezzanotte Derwent che gridava giù la maschera, giù la maschera, le maschere che venivano tolte e... La morte rossa dominava su tutto. Jack aggrottò la fronte. Come mai gli era venuta in mente una cosa del genere? Era Poe, il grande scribachino americano. E sicuramente l'overlook, quell'overlook scintillante, illuminato, riprodotto sul cartoncino d'invito che teneva in mano, era quanto di più lontano da Poe fosse lecito immaginarsi. Jack tornò a infilare il biglietto nel libro e passò alla pagina successiva, un ritaglio incollato di uno dei giornali di Denver, sotto il quale era scribachiata la data. 15 maggio 1947. Lussuoso albergo di montagna riapre con una parata dei più bei nomi dell'alta società. Derwent dice che l'overlook sarà il monumento del mondo. Dal nostro inviato speciale, David Felton. L'overlook hotel è stato aperto e riaperto più volte nei suoi 38 anni di storia, ma raramente col fasto e lo splendore promessi da Horace Derwent, il misterioso milionario californiano, attuale proprietario dell'albergo. Derwent, che non nasconde di aver investito più di un milione di dollari in questa sua nuova iniziativa, e c'è chi dice che la cifra rasenti in realtà i 3 milioni, afferma che il nuovo Overlook sarà uno dei monumenti del mondo, il genere di albergo nel quale ci si ricorderà di aver passato una notte anche a distanza di 30 anni. Allorché a Derwent, di cui corre voce che abbia cospicui interessi a Las Vegas, è stato chiesto se l'acquisto e il restauro dell'overlook significassero l'apertura del fuoco in una battaglia intesa a legalizzare il gioco d'azzardo e le bische nel Colorado. Il magnate dell'industria aeronautica, cinematografica, bellica e armatoriale l'ha smentito con un sorriso. Il gioco d'azzardo declasserebbe l'overlook, ha dichiarato. E non pensiate con questo che intenda criticare Las Vegas. Laggiù sono troppe le pietre miliari della mia storia perché possa permettermi una cosa del genere. Non ho interesse a intralazzare lo scopo di legalizzare il gioco d'azzardo nel Colorado. Sarebbe come sputare controvento. Quando l'overlook verrà riaperto ufficialmente, tempo fa vi si è tenuto un fastoso e trionfale ricevimento per celebrare la conclusione dei lavori di restauro, le camere ridipinte, tapezzate e arridate ex novo ospiteranno una vera e propria parata di celebrità. Dal creatore di moda Corbett Steny a... divertito Jack volto pagina. Ora aveva sott'occhio un'inserzione pubblicitaria a piena pagina tratta dalla rubrica dedicata ai viaggi del supplemento domenicale del New York Times. Alla pagina successiva c'era un articolo riguardante lo stesso Derwent, un uomo quasi calvo dagli occhi penetranti che sembravano in grado di trafiggerti persino dalla foto di un giornale. Jack diede una scorsa all'articolo. Conosceva già la maggior parte delle notizie per aver letto un articolo su Derwent pubblicato l'anno prima dal Newsweek, nato povero a St. Paul, non aveva nemmeno portato a termine gli studi superiori e aveva preferito arruolarsi in marina. Aveva fatto una rapida carriera e poi si era ritrovato in un brutto impiccio a proposito di un brevetto relativo a un nuovo tipo di elica da lui stesso progettato. Nel tiro alla fune tra la marina e un giovanotto sconosciuto a nome Horace Derwent, lo zio Sam aveva optato per il vincitore più prevedibile, però lo zio Sam non aveva mai più ottenuto un altro brevetto e ce n'erano stati moltissimi. Verso la fine degli anni venti e il principio dei trenta, Derwent si era convertito all'aviazione. Con quattro soldi aveva comperato una compagnia per l'irorazione dei campi, prossima al fallimento. L'aveva trasformata in un servizio postale e aveva fatto fortuna. Erano seguiti altri brevetti, il progetto di una nuova ala per i monoplani, un carrello per le bombe applicato sulle furtezze volanti che avevano messo a ferro e fuoco Hamburgo, Dresda e Berlino, una mitragliatrice raffreddata ad alcol, nonché un prototipo del sedile catapultabile che in seguito era stato installato sugli avi oggetti degli Stati Uniti. E per non venir meno alla sua fama, quest'uomo dall'aspetto di ragioniere che viveva nella stessa pelle dell'inventore continuava ad accumulare investimenti. Una catena di fabbriche di munizioni negli stati di New York e New Jersey, cinque stabilimenti tessili nel New England, stabilimenti chimici nel sud fallimentare e in fermento. Alla fine degli anni della depressione, la sua ricchezza altro non era stata che una manciata di azioni che gli assicuravano il controllo di varie aziende, acquistate a prezzi irrisori e smerciabili solo a prezzi ancora più bassi. Derwent non mancò di vantarsi che avrebbe potuto liquidare tutte le sue proprietà intascando il prezzo di una Chevrolet usata. Era a corsa voce, ricordava Jack, che alcuni dei mezzi usati da Derwent per tenersi a galla fossero né più nemmeno disgustosi. Era stato coinvolto nel contrabbando degli alcolici e nella prostituzione nel Midwest, per non dire del contrabbando nelle zone costiere del sud, dove avevano sede le sue fabbriche di fertilizzanti. Ne aveva disegnato di associarsi agli astri nascenti del gioco d'azzardo negli stati dell'Ovest. L'investimento più clamoroso di Derwent era stato l'acquisto dei Top Mark Studios, nel momento in cui erano prossimi a colare a picco. Da quando nel 34 Lidl Mergery Morris, la loro stella bambina, era morta per una dose eccessiva di eroina, non avevano incontrato più successo. Aveva 14 anni Lidl Mergery, la stellina specializzata in teneri personaggi di bambine settenni che salvavano i matrimoni in pericolo, nonché la vita di cani ingiustamente accusati di uccidere le galline. Aveva avuto il più grandioso funerale della storia di Hollywood, a spese della Top Mark. La versione ufficiale era stata che Lidl Mergery aveva contratto una malattia che non perdona, mentre si esibiva presso un orfanotrofio di New York, e qualche cinico aveva avanzato l'ipotesi che la compagnia cinematografica avesse fatto sfoggio di tutto quel verde perché sapeva che seppelliva se stessa. Derwent aveva assunto, in veste di direttore della Top Mark, un abilissimo uomo d'affari, che non mancava per altro verso di essere un infoiato maniaco sessuale. Si chiamava Henry Finkel. Nel giro dei due anni precedenti per l'Arbor, la casa cinematografica aveva macinato 60 film, 55 dei quali erano passati in barba alla censura. Gli altri 5 erano film di addestramento girati per conto del governo. In uno dei lungometraggi, che avevano riscosso grande successo, un ignoto costumista era riuscito a imporre un reggiseno senza spalline che la protagonista doveva indossare nella scena del grande ballo, mettendo in mostra ogni cosa, tranne, forse, il neo che aveva appena sotto il solco delle natiche. Derwent si era assicurato il merito anche di questa invenzione, a tutto vantaggio della sua reputazione o quantomeno notorietà. La guerra l'aveva arricchito ed era tuttora facoltoso. Abitava a Chicago. Lo si vedeva di rado, tranne in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione delle aziende Derwent, che dirigeva con polso di ferro. Correva voce che fosse proprietario anche delle Unite Airlines di Las Vegas, dove era noto che detenesse la maggioranza del pacchetto azionario di quattro alberghi casino e fosse interessato ad almeno altri sei, di Los Angeles e addirittura degli Stati Uniti. Amico di sovrani, presidenti e capoccia della malavita, c'era chi lo considerava l'uomo più ricco del mondo, però non gli era riuscito di far funzionare come si deve l'overlook, pensò Jack. Posò per un attimo l'album di ritagli e cavò dal taschino della giacca il taccuino e la matita automatica, che si portava sempre a presso. Prese un rapido appunto. Fare ricerche su Derwent, biblioteca, Sidewinder? Ripose in tasca il taccuino e riprese l'album dei ritagli. Aveva un'espressione tesa, preoccupata. Un ritaglio del primo febbraio 1952, diceva, milionario liquida i suoi investimenti nel Colorado, firmato un accordo per l'overlook con una società finanziaria della California. Altre investimenti, rivela Derwent, di Rodney Conklin, della nostra redazione finanziaria. In un breve comunicato emanato ieri dagli uffici di Chicago delle monolitiche imprese Derwent, è stato rivelato che il milionario, forse miliardario, Horace Derwent, ha liquidato le sue proprietà del Colorado in uno stupefacente gioco finanziario di potere che gli sarà perfezionato entro il primo ottobre 1954. Gli investimenti di Derwent comprendono gas naturali, carbone, centrali idroelettriche e una compagnia di lottizzazione fondiaria chiamata Colorado Sunshine Inc., che possiede l'opzione su più di 500 mila acri di terreno del Colorado. La più famosa proprietà di cui Derwent disponeva nel Colorado, l'overlook hotel, è già stato venduto. Ha rivelato ieri lo stesso Derwent in una delle sue rare interviste. L'acquirente è un gruppo di investimento finanziario della California, capeggiato da Charles Grondin, un ex membro del consiglio di amministrazione della California Land Development Corporation. Derwent si è rifiutato di parlare del prezzo concordato, ma fonti informate aveva liquidato tutto, baracca e burattini. Non si trattava solo dell'overlook, ma in qualche modo, in qualche modo, Jack si passò la mano sulle labbra, si accorse di aver sete. Un buon bicchiere avrebbe migliorato la situazione. Riprese a sfogliare le pagine. Il gruppo californiano aveva aperto l'albergo per due stagioni e poi l'aveva venduto a un gruppo finanziario del Colorado, la Mountain View Resorts, che nel 57 è fallita sotto una pioggia di accuse di corruzione, appropriazione indebita e truffa i danni degli azionisti. Il presidente della compagnia si era sparato due giorni dopo aver ricevuto mandato di comparizione di fronte al tribunale. Nei tardi anni 50 all'albergo era rimasto chiuso. C'era un unico articolo relativo a quel periodo. Un trafiletto dominicale intitolato Ex Grande albergo cade in rovina. Le fotografie che accompagnavano l'articolo apparivano desolanti. La pittura del portecato d'ingresso che si scrostava, il prato ridotto a una distesa incolta di erbacce e chiazze spelacchiate, finestre rotte dalle buffere e dalle sassate. Anche quella avrebbe potuto essere una parte del libro, se davvero l'avesse scritto. La fenice che sprofonda nelle sue ceneri per poi rinascere. Si ripromise di dedicare tutte le sue cure all'overlook. Gli pareva che prima di quel giorno non avesse mai realmente afferrato l'importanza dei suoi compiti nei riguardi di quell'albergo di eccezione. Era quasi come assumersi una responsabilità al cospetto della storia. Nel 1961 quattro scrittori, due dei quali vincitori del premio Pulitzer, avevano affittato l'overlook per riaprirlo sotto forma di scuola per scrittori. Uno degli studenti si era ubriacato nella sua stanza al terzo piano, aveva sfondato chissà come la finestra ed era precipitato sul terrazzo di cemento sottostante, lasciandoci la pelle. Il giornale lasciava intendere che avrebbe anche potuto trattarsi di suicidio. Ogni grande albergo ha i suoi scandali, aveva detto Watson, proprio come ogni grande albergo ha un fantasma. Perché? Diavolo, la gente va e viene. A un tratto ebbe la sensazione che tutto il peso dell'overlook gravasse su di lui, con le sue 110 stanze, i suoi magazzini, la sua cucina, la sua dispensa, la sua cella frigorifera, la sua lounge, il suo salone da ballo, la sua sala da pranzo. Nella stanza le donne andavano e venivano e la morte rossa dominava su tutto. Si passò una mano sulle labbra e voltò la pagina dell'album. Era giunto all'ultimo terzo del volume. Ora, e per la prima volta, si chiese a chi fosse appartenuto quell'album, abbandonato in cantina, al sommo della pila più alta di incartamenti. Un altro titolo, datato questo 10 aprile 1963. Gruppo di Las Vegas acquista celebre albergo del Colorado. Lo scenografico Overlook diventerà un club privato. Robert T. Leffing, portavoce di un gruppo di investimento finanziario che va sotto il nome di High Country Investments, ha annunciato oggi a Las Vegas che la High Country ha negoziato un accordo per l'acquisto del famoso Overlook Hotel, un albergo situato nel cuore delle montagne rocciose. Leffing non ha voluto menzionare i nomi delle persone interessate all'affare, ma ha affermato che l'albergo sarà trasformato in un circolo privato esclusivo. Ha precisato altresì che il gruppo da lui rappresentato spera di acquisire fra i membri del circolo i dirigenti di altissimo livello di aziende americane e straniere. La High Country possiede alberghi anche nel Montana, nello Yoming e nello Utah. L'Overlook aveva raggiunto fama mondiale negli anni tra il 1946 e il 1952, quando era proprietà del misterioso megamilionario Horace Derwent. Il trafiletto incollato alla pagina successiva consisteva unicamente in qualche riga scherzosa, recante la data di quattro mesi dopo. L'Overlook aveva aperto sotto la nuova gestione, il giornale. Non era riuscito a scoprire, o meglio, non ne aveva l'interesse, chi fossero i possessori delle chiavi del circolo privato, già che non si facevano nomi all'infuori di quelli dell'High Country Investments, il che era, quanto dire, la denominazione aziendale più anonima che Jack avesse mai udito, a eccezione di una catena di negozi di biciclette ed elettrodomestici del New England occidentale, che andava sotto il nome di Business Inc. Volto pagina e fissò ammiccando il ritaglio che vi era incollato. Il milionario Derwent torna in Colorado per la porta di servizio? Presidente della High Country sarebbe Charles Grondin, di Rodney Conklin, della nostra redazione finanziaria. L'Overlook Hotel, l'imponente, fastoso albergo posto ad alta quota sulle montagne del Colorado e un tempo balocco personale del milionario Horace Derwent, è al centro di un intrico finanziario che solo ora comincia a venire in luce. Il 10 aprile dello scorso anno l'albergo venne acquistato da una ditta di Las Vegas, la High Country Investments, per essere trasformato in un circolo privato destinato a ospitare ricchi dirigenti nostrani e forestieri. Ora, fonti informate affermano che la High Country è capeggiata da Charles Grondin, 53 anni, che è stato a capo della California Land Development Corporation fino al 1959, allorché ha rassegnato le dimissioni per assumere la carica di vicepresidente della sede centrale di Chicago delle imprese Derwent. Ciò ha indotto Taluni a ritenere che la High Country Investments possa essere controllata da Derwent, il quale potrebbe aver acquistato l'Overlook per la seconda volta e in circostanze decisamente singolari. Grondin, che nel 60 fu indiziato per evasione fiscale e poi assolto, non ha potuto essere contattato allo scopo di ottenerne un commento. Quanto a Horace Derwent, il quale difende gelosamente la propria privacy, è stato contattato per telefono ma non ha voluto fare commenti. Il deputato dello Stato, Dick Bowes, di Golden, ha auspicato che venga aperta un'indagine esauriente sul... Il ritaglio era datato 27 luglio 1964. Seguiva la colonna di un giornale domenicale del settembre di quell'anno, a firma di Josh Brannigan, uno specialista nello scoprire le magagne sul genere di Jack Anderson. Jack ricordava vagamente che Brannigan era morto nel 68 o nel 69. Il Colorado, zona franca della mafia, di Josh Brannigan. Sembra possibile che il più recente luogo di ritrovo dei capoccia del crimine organizzato degli Stati Uniti sia diventato un remoto albergo abbarbicato ai monti, nel cuore delle montagne rocciose. L'Overlook Hotel, un elefante bianco che dalla sua apertura nel 1910 è stato gestito con scarsa fortuna da almeno una dozzina di gruppi e individui diversi. Attualmente funziona sotto forma di circolo privato a prova di intrusi, ufficialmente destinata a ospitare uomini d'affari prosperi e ineccepibili. Il problema è in che affari sono realmente coinvolti i possessori delle chiavi dell'Overlook. I membri presenti nel corso della settimana, compresa fra il 16 e il 23 agosto, possono darcene un'idea. L'elenco riportato qui di seguito ci è stato fornito da un ex dipendente della High Country Investments, una compagnia che dapprima era stata accreduta a un'impresa fantocio di proprietà delle imprese Derwent. Ora sembra più probabile che gli interessi di Derwent nell'ambito della High Country, ammesso che esistano, siano in netta minoranza rispetto a quelli di parecchi baroni del gioco di azzardo di Las Vegas. In passato questi stessi pezzi da 90 del gioco sono stati legati a individui sospettati di essere capi della malavita e come tali condannati. Durante quella calda settimana d'agosto erano presenti all'Overlook Charles Grondin, presidente della High Country Investments. Quando si è risaputo nel luglio di quest'anno che mandava avanti la baracca dell'High Country, è stato diramato l'annuncio con notevole ritardo rispetto al fatto che aveva rassegnato le dimissioni dalla carica che rivestiva in precedenza nell'ambito delle imprese Derwent. L'argente o crinito Grondin, che si è rifiutato di rilasciare una dichiarazione per questa rubrica, è già stato processato una volta, 1960, e assolto dall'accusa di evasione fiscale. Charles Baby Charlie Battaglia, un impresario sessantenne di Las Vegas, che ha la maggioranza azionaria del greenback del Lucky Bones on the Strip. Battaglia è amico e intimo di Grondin. Il suo primo arresto risale a lontano 1932, anno in cui venne processato e assolto per l'assassinio di stampo mafioso di Jack Dutton Morgan. Le autorità federali sospettano che sia coinvolto nel traffico di stupefacenti, nel racket della prostituzione e nell'omicidio su commissione, ma Baby Charlie è finito dietro le sbarre soltanto una volta, per evasione delle tasse sul reddito nel 1955-56. Richard Scarn, principale azionista delle Funtime Automatic Machines. La Funtime fabbrica macchinette e mangiasoldi per le folle del Nevada, flippere jukebox, Melody Coin, per il resto del paese. Ha scontato condanne per aggressioni a mano armata, 1940, possesso illegale di armi, 1948, e cospirazione intesa a commettere frode fiscale, 1961. Peter Zeiss, un importatore residente a Miami, prossimo alla settantina. Negli ultimi cinque anni, Zeiss si è opposto con tenacia all'espulsione quale persona indesiderabile, è stato riconosciuto colpevole di ricettazione, 1958, e cospirazione volta a commettere frode fiscale, 1954. Affascinante, distinto, raffinato, Pete Zeiss è chiamato papà dagli intimi ed è stato processato sotto accusa di omicidio e complicità in omicidio. Grosso azionista delle Funtimes di Scarn è notoriamente interessato in quattro bische di Las Vegas. Vittorio Gianelli, noto anche come Fito il Macellaio, processato due volte per pluri omicidio di stampo mafioso, ivi incluso l'omicidio con un'accetta del vice capo della mafia di Boston, Frank Scoffi. Gianelli è stato indiziato 23 volte, processato 14, e condannato una sola volta per taccheggio nel 1940. Si è detto che in anni recenti Gianelli è diventato una potenza nella gestione dell'industria del crimine negli stati dell'Ovest, che è al suo centro a Las Vegas. Carl Jimmy Ricks Prashkin, uno speculatore di San Francisco, presunto erede del potere attualmente detenuto da Gianelli. Prashkin possiede grossi pacchetti azionari delle imprese Derwent, della High Country Investments, della Funtime Automatic Machines e di tre bische di Las Vegas. In America Prashkin ha le carte in regola, ma in Messico è stato indiziato di frode, accuse che sono state ritirate in tutta fretta tre settimane dopo essere state esporte. È stata avanzata l'ipotesi che Prashkin possa essere incaricato del riciclaggio del denaro sporco, scremato dalla gestione delle bische di Las Vegas e del rinvestimento delle grosse somme nelle attività legali delle organizzazioni negli stati dell'Ovest. Non è da escludere che ora, in tali operazioni, rientri anche la gestione dell'Overlook Hotel nel Colorado. L'elenco degli ospiti dell'albergo nella stagione in corso comprende altresì. C'era dell'altro, ma Jack si limitò a scorrere allo in fretta, continuando a passarsi la mano sulle labbra. Un banchiere con le mani in pasta a Las Vegas, gente di New York per la quale la confezione di capi di abbigliamento era più che altro una copertura. Uomini che si ritenevano fossero coinvolti nel traffico della droga, nel vizio, nelle rapine, nella criminalità. Dio, che storia! Ed erano stati tutti lì, proprio sopra la sua testa, in quelle stanze vuote. A scopare puttane di lusso al terzo piano, magari. A bere magnum di champagne. A stringere accordi che avrebbero fruttato milioni di dollari, magari in quello stesso appartamento dove avevano alloggiato i presidenti. La storia c'era, d'accordo. E che razza di storia! Con gesto concitato estrasse il taccuino e scriva Chia un altro appunto per ricordarsi di controllare eventuali dati relativi a tutta quella gente alla biblioteca di Denver, quando avrebbe portato a termine il suo incarico di custode. Ogni albergo al suo fantasma, si dice, L'Overlook, per parte sua, ne aveva un esercito. Prima un suicidio, poi la mafia, che altro ancora. Il ritaglio che seguiva conteneva una rabbiosa smentita di Charles Grondin alle accuse mossegli da Branninger. Jack la beneficiò di un sorrisetto. Il ritaglio incollato alla pagina seguente includeva una fotografia e Jack riconobbe immediatamente il soggetto, anche se la tapezzeria era stata cambiata dopo il giugno del 1966. Si trattava del lato esposto a ovest dell'appartamento presidenziale. Dopodiché veniva il delitto. La parete del salotto accanto alla porta che dava accesso alla camera da letto era schizzata di sangue e di frammenti di materia cerebrale. Un poliziotto dall'aria impassibile sovrastava un cadavere nascosto da una coperta. Jack sgranò gli occhi. Affascinato. Poi spostò lo sguardo al titolo. Regolamento di conti in un albergo del Colorado. Presunto re del crimine ucciso in un circolo privato in montagna. Altri due morti. Sidewinder, Colorado. A una sessantina di chilometri da questa sonnolenta cittadina del Colorado, nel cuore delle montagne rocciose, ha avuto luogo un regolamento di conti tra bande rivali. L'Overlook Hotel, acquistato tre anni or sono da una compagnia di Las Vegas in qualità di circolo privato esclusivo, è stato teatro di un triplice assassino a colpi di fucile a canne mozze. Due degli uomini abbattuti erano o i compagni o le guardie del corpo di Vittorio Gianelli, noto altresì come Il Macellaio, soprannome affibbiato agli inseguito al sospetto che fosse implicato in un massacro avvenuto a Boston vent'anni fa. La polizia è stata chiamata da Robert Norman, direttore dell'Overlook, il quale ha dichiarato di aver udito sparare e alcuni ospiti avevano riferito di aver visto due uomini fuggire giù per la scalante incendio, col volto nascosto da calze di nylon e col fucile imbracciato. Dopodiché si erano allontanati a bordo di una decapotabile color Havana ultimo modello. L'agente statale Benjamin Moore ha scoperto i cadaveri di due uomini, più tardi identificati per quelli di Victor Burman e di Roger Macassi, entrambi di Las Vegas, sulla soglia dell'appartamento presidenziale dove hanno soggiornato due presidenti degli Stati Uniti. All'interno Moore ha rinvenuto il corpo di Gianelli steso sul pavimento. È lecito dedurre che Gianelli sia stato abbattuto mentre tentava di sfuggire ai suoi aggressori. Moore ha affermato che Gianelli era stato colpito quasi a bruciapelo con proiettili di grosso calibro. Charles Grondin, rappresentante della compagnia che attualmente è proprietaria dell'Overlook, non ha potuto essere raggiunto per... Sotto il ritaglio, a grossi caratteri tracciati col penarello, qualcuno aveva scritto «Si sono portati via i suoi coglioni». Jack indugiò a fissare quella scritta con gli occhi sbarrati, un brivido che gli correva nelle ossa. A chi apparteneva quel libro? Finalmente volto pagina, deglutendo come per sciogliere il nodo che aveva in gola. Un'altra colonna di Josh Branegar, che risariva ai primi mesi del 1967. Jack si limitò a leggere il titolo. Famoso albergo venduto in seguito all'assassinio di un figuro della malavita. I fogli che seguivano il ritaglio in questione erano bianchi. Si sono portati via i suoi coglioni. Sfogliò l'album tornando alle prime pagine, in cerca di un nome o di un indirizzo. Magari di un numero di camera, perché era certo che chiunque avesse tenuto quella specie di diario aveva alloggiato nell'albergo. Ma non c'era nulla. «Jack? Tesoro?» Una voce lo chiamava dalle scale. «Wendy». Jack trasalì sentendosi quasi in colpa, come se si fosse nascosto lì per bere in segreto e adesso lei si accingesse ad annusargli l'alito. «Ridicolo». Si fregò le labbra con la mano e gridò di rimando. «Sì, piccola, sono qui a cercare topi!» La sentì che scendeva le scale e attraversava la stanza della caldaia. Di furia, senza neppure pensare al perché di un gesto simile, nascose l'album dei ritagli sotto una pila di conti e di fatture. Si drizzò in piedi nel momento stesso in cui lei passava sotto l'arco. «Che cosa ti amine fai qua sotto? Sono quasi le tre!» «Così tardi?» Jack sorrideva. «Ho frugato un po' tra questa roba per cercare di scoprire dove sono sepolti i cadaveri!» Queste parole gli riecheggiarono malignamente nel cervello. Wendy gli si avvicinò, fissandolo, e lui, con moto estintivo, arretrò di un passo. Sapeva che cosa Wendy si accingesse a fare. Cercava di annusare puzzo d'alcol nel suo alito. Con tutta probabilità non era consapevole neppure lei, ma lui lo era, e la cosa gli comunicò un senso di colpa e al tempo stesso di rabbia. «Ti sanguinano le labbra!» disse Wendy con una voce curiosamente inespressiva. «Come, come?» Jack si portò la mano alla bocca e trasalì, avvertendo una lieve fitta. Si ritrovò l'indice macchiato di sangue. Il senso di colpa accentuò. «Ti sei di nuovo graffiato la bocca!» disse Wendy. Jack abbassò gli occhi e si strinse nelle spalle. «Già, evidentemente...» «È stato terribile per te, vero?» «Beh, non esageriamo.» «Va meglio adesso!» Alzò lo sguardo su di lei e si costrinse a muovere i piedi. Una volta in movimento fu più facile. Attraversò la stanza accostandosi alla moglie e le passò un braccio attorno alla vita. Poi le scostò una ciocca di capelli biondi e le posò un bacio sul naso. «Sì, dov'è Danny?» «Oh, è in giro da qualche parte. Il cielo comincia ad annuvolarsi. Hai fame?» Lui le fece scivolare una mano sul sedere sodo, strizzato nei jeans con simulata sensualità. «Una fame da lupo, madame!» «Attento, Lazzarone! Non cominciare se non sei in grado di finire!» «Ci sta, madame?» domandò Jack, continuando ad accarezzarla. «Filmetti pornografici?» «Posizioni contro natura?» Mentre passavano sotto l'arco si voltò ad adocchiare la scatola dove l'album dei ritagli di Ki-i era celato sotto le carte. Adesso che la luce era spenta era solo un'ombra. Jack provò un certo sollievo all'idea di averne allontanato Wendy. La voglia di fare l'amore divenne meno forzata, più naturale. «Forse, quando avrai mangiato un panino...» si svincolò, ridacchiando. «Mi fai il solletico?» «Questo è ancora niente in confronto a quello che vorrebbe farle quel giocherellone di Jack Torrance, madame!» «Piantala via! Che ne diresti di prosciutto e formaggio come prima portata?» Risalirono le scale insieme e Jack non si volse più a guardare da sopra la spalla ma ripensò alle parole di Watson. «Ogni grande albergo ha un fantasma!» «Perché?» «Diavolo, la gente va e viene!» Poi Wendy chiuse la porta della cantina alle loro spalle imprigionando nel buio anche quelle parole.